Siamo collegati oggi, fateci pallone, grazie che iniziamo a giocare, oggi facciamo un sacco le finali, giù una campanella, facciamo giocare, lo accanto è arrivato? No, facciamo giocare, lo accanto è arrivato, per il terzo quarto posto. Allora, potete vedere cosa, possiamo iniziare a giocare? Chi arbitrarà, chi farà arbitro? Tutti e tu vuoi essere internazionali, sono noi e non mi vengono, io ho fatto un'organizzazione, è un'organizzazione, è un'organizzazione, è un'organizzazione, è un'organizzazione, è un'organizzazione che Penegono? E' la lentezza, poi è una zona sensibile per me, poi i ragazzi non si potrebbero, nel settembre del 2016, quando c'è il posto dell'angeles, non parlare perché c'è una macchina che non fa le sue, e lui che mi sta sapendo di dire se mai si piangono, io non ho visto un po' di colpa che mi stanno sapendo a tu, e io non ho visto un po' di colpa che mi stanno sapendo a tu, e io non ho visto un po' di angela, e qui mi la resta per uno di ongellino, se si vada per me per giocare, e qui mi viene a rispettare, è che il posto dell'angeles e la nuova guerra, e qui mi viene a rispettare. e qui mi viene a rispettare, e qui mi viene a rispettare, Grazie a tutti 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 Uno Grazie a tutti Abbiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Abbiamo 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 Allora Uno Uno Abbiamo 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 Numero Abbiamo 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 Abbiamo